...che vengono reintrodotti da un po' di musica e poi lo faremo vedere. Venite, Domenico Sanna al pianoporte, e Gigi Terenzo, alla voce. Ed ecco, vediamo l'artista ceramista Carlo Bernat, Al Tornio, che produce a mano, pare una piccola ciotola. Ecco, vediamo la lavorazione Al Tornio. Una lavorazione molto antica e particolare, che Carlo Bernat porta sapientemente avanti. Si procede con gli ultimi ritocchi, le rifiniture. E adesso il taglio, con il fil di ferro, dell'oggetto che Carlo Bernat è andato a creare con le sue mani. Ecco lì.